Bene, grazie ancora per la performance straordinaria. Io adesso chiamerei Iman Rossini che è il segretario della Commissione che si è arrivato a gestire queste risorse dell'Italia, a fare un po' da organizzatore per conto dell'Istituto, per cui vorrei anche dare una piccola testimonianza a questo punto, visto che è considerato che ha avuto a che fare con questo mondo così in realtà così ricco come quello che stiamo spostando in questa serie di idee, ricco di sentimenti, ricco di parole.